Buongiorno a tutti e benvenuti alla Cascata delle Marmore. Siamo qui, Associazione Commercianti e Centro Rafting. Ecco, vogliamo promuovere questo territorio fantastico dove si possono fare veramente delle avventure outdoor di tutti i tipi, ma anche delle mangiate di tutti i tipi. Con i prodotti tipici di questo territorio, quindi Associazione Commercianti e Centro Rafting, sinergia fantastica, di promozione turistica e non solo. Vi aspettiamo in questo territorio per le vostre scorpacciate e le vostre attività outdoor. Soprattutto ricordiamo che lunedì, nella giornata di San Valentino, a Terni, città natale del Patrono, sarà festeggiata la giornata degli innamorati. Quindi venite alla Cascata a farvi una foto. E taggatela, magari come ha fatto Matteo. Esatto. Ciao a tutti.